Per l'ombra l'ho fatto nascere io perché a quel tempo ero fissato con l'horror, infatti mi ricordo che è nato dal fatto che mi ricordavo che quando c'erano i tedeschi a Roma nel 1944, io avevo 11 anni e c'era il coprifuoco e passai l'inverno, siccome erano i 4 bisognava stare a casa a leggere poco e da allora mi era rimasta questa fissa dell'horror e ho coltivato a lungo, poi improvvisamente adesso non lo farei mai assolutamente, ho coltivato a lungo questa passione per l'horror fino a che mi sono scritto questa amante d'oltre tomba. Ho convinto mio padre a farlo, però mio padre non c'aveva una lira e infatti io lo volevo fare in bianco, nero e rosso, mio padre faceva uno studio e si accorse che costava un mare dei soldi, che bisogna fare delle sottrazioni di colore, insomma, e allora niente, lo facevamo in bianco e nero. E niente, era stata la mia passione per l'horror, che poi non so come mi è passata di colpo, infatti adesso non lo credo. Poi mi ricordo per esempio che quando ho visto, non era Bava quello, uno di vampiri, che non mi ricordo qual era, deve essere uno di quelli di Hammer, chi era che faceva questi film nei cani di serie B del Ham? L'unica volta che ho avuto paura a salire le scale di casa, ho detto ma allora funziona questo fatto, perché tornando dal cinema dove avevo visto questo film dei vampiri, ho avuto paura a tornare a casa, questa è una cosa che mi ricordo.